Oh! Giovanni? Sì? Che stai facendo qui fuori? Io sono qui a scegliere le persone per il video dei giovanissimi di un altro anno. Ok, allora guardiamoli insieme. Andiamo. Allora, com'è che ti chiami? Daniele. Simone. Samuele. Quale età? 13. Gruppo di provenienza? Uniano. Matiniano. Viaccia. Matiniano. Matiniano. Voi riesci a contare con la lingua fuori fino a 10? Mi chiede. Avresti il coraggio di chiedere a un non vedente di giocare a mosca cieca? Sì. Perché? È già più grave. Che cosa ne pensi sulla violenza sulle donne? Sulle donne? Che ma... La violenza sulle donne? Che non devono chiedere donne? Perché donne sono uomini... Dio per noi. Quale è il vostro tallone da kinder? Cosa? Già. Cos'è? Siamo male. Siamo male a due. È kinder. No, no, va. Che verso fa il coccodrillo? Il coccodrillo non fa... Dice mangi troppo, non mi metterò mai il cappotto, il coinventi in puglia che è molto sicuro. Ok, ok, ok. Participio passato nel verbo esigere. Esigenziato. Esigenziato. Esigente. Esigiai. Passato remoto del verbo pevora. Pevora? Pevora. 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 Ti piace a toccare il naso con la lingua? Beh. No, 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 restate un attimo un po'. Fermo un attimo. Ma tu dici bene l'indai? Perfetto. E qui abbiamo una scopa che ha bellissima per le spazzate. Ma adesso avete 10 secondi per vendermelo. Vendermelo? Vendermelo. Convinceteci a compratelo. Comprate. Mostratemi cosa sapete fare. Esatto. Esatto. Allora, chi fa il culo? Io. No, adesso io faccio il culo dei pesci. Beh, eh. Questa è la da fa il culo. E tu mi fa a fare l'altro. Eh, così va benissimo. Basta. Beh, allora adesso fateci vedere un po'. Ah, te chiesto il fermetto, quindi un po' più la lingua ti faremo. Cos'è? E' il catalì il cammello, veloce e alto e snello. Riesce a carburare con l'energia solare. E' il catalì il cammello, colore caramello. Ed è naturalmente amico dell'ambiente. Facciamo un girendo sul tuo catalì. Ok, venite qui. Catali, catalì, catalì. E oh, 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 il cammello catalitico è mio. Vado bene. Vado bene. Vado bene l'avanti. Vado bene. Vado bene. Vado bene. Non sto scherzando. No. Ok, no. Non sto scherzando. Vado bene. Non mai salto a te. Non sto scherzando. No, no, no. Tocchi po', ragazzi, non sto scherzando. No, no, no. Un po' di provenienza. Cosa è lì? Gliaro. Cosa? Ma di Gliaro! Non scherzando. Vado bene. Gliaro è bene. Nome? Erema, Erema. Guglielmo! Ma stai lì fuori? No. Ok, allora, come diciamo? Ah, ti faccio un po' di domande. Guardiamo se ti piaccia. Sì. Allora, nome? Francesco. Età? Trento. Gruppo di provenienza? Pienso. Cosa vuoi fare da grande? Piede. Bene, allora, ti faccio qualche domanda molto molto veloce, ok? No, vai. Ok, funziona. Funziona. Funziona.